we la sono marco con il mio nome voglio fare un aggiornamento veloce che fra un po inizia questo incontro e guardate cosa sta succedendo tipo ad esempio il nasdaq ha già fatto un dump un pump inizia la volatilità sostanzialmente state molto attenti adesso le posizioni perché allora ad esempio noi su bitcoin che siamo entrati ancora con quel mitico trade sui 38 8 vedete anche anche bitcoin molto volatile potrebbe succedere di tutto in questo momento chi vuole essere conservativo può anche già uscire adesso a pari o leggero profitto e poi rivalutare l'entrata perché adesso potrebbe andare su potrebbe andare giù potrebbe andare su potrebbe essere ci sono che casino e poi la direzionalità si vedrà alla fine di questo incontro quello che possiamo vedere comunque noi abbiamo avuto la nostra continuazione finalmente abbiamo rotto praticamente vedete questa figura questa figura di falling wedge che abbiamo disegnato da tempo noi l'abbiamo comunque rotta anche con un po di continuazione adesso ci stiamo appoggiando sopra praticamente guardando su un time frame più piccolo vedete siamo abbiamo rotto e ci stiamo appoggiando sopra il problema è che adesso c'è solo tanta volatilità e incertezza il movimento sicuramente fa ottimo niente da dire che adesso magari ci riappoggiamo sopra e ripartiamo cioè facciamo una cosa del genere appunto ci riappoggiamo e via questa insomma sembrerebbe scolasticamente quello che può accadere però adesso che inizierà a partire questo incontro chissà cosa dicono chissà cosa non dicono e nel breve cioè mentre parlano può succedere di tutto e poi successivamente si capirà la vera direzionalità che si vorrà prendere come mercato rimango relativamente positivo perché comunque dovrebbero fare quello che hanno già detto e se fanno quello che hanno già detto teoricamente il mercato dovrebbe aver già scontato e tutte queste insomma tutte queste robe tutte queste di disastri di questi ribassi se invece non so si inventano qualcosa di strano allora non so andiamo veramente agli inferi ma non credo che lo vogliano anche loro ecco dai quindi comunque adesso ci ci riaggiorniamo magari con un video un altro video veloce più più avanti io sono sempre senza pc quindi ci sentiamo dai alla prossima ciao